Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo delle tronchesine di qualità made in Italy. Sono ottime per lavori di modellismo, per elettronica e anche nel settore orafo e per chi deve creare orecchini, collane. Quindi proponiamo vari modelli con diversi tipi di taglio. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Arrivederci a presto. Grazie. Grazie. Grazie.